Beh, domani ci sono sempre dei settori nei quali si può migliorare. Credo che uno di quelli che ci abbia giocato contro in maniera decisiva è quello legato alla sicurezza sul lavoro, dove siamo credo penultimi in Italia, quindi abbiamo con questo risultato vanificato risultati buoni in altri settori. Il primo fra tutti è quello dell'internazionalizzazione nell'ambito della produzione industriale. I sei posti persi non mi spaventano, è la situazione di media classifica che non mi piace e quindi vorrei che si potesse lavorare per migliorare complessivamente. E questo dimostra come in una collettività, ora ricordiamo che il dato è provinciale, però noi siamo capoluogo e quindi portiamo più responsabilità e più peso nella valutazione degli altri. Si cresce tutti insieme, quindi ha poco senso avere un settore che è al top e un altro che è all'ultimo posto in classifica. Bisogna lavorare tutti insieme per fare in modo di far crescere la società.